mi spiego si io l'aug lo so lo conosco come le mie come le mie tasche beh è bella sta cosa che puoi risettare quando vuoi no non quando vuoi però dopo un po si è vero è bello no sono smirato mi spiego non ci gascomo no non ci ho colpito eh no non ci ho colpito